Stiamo qui pronti per una trapperta a Brixi. È stata una dura giornata, devo fare i complimenti per la prima partita al Brescia che ha giocato veramente bene, ha battuto bene, ha corso, ha tirato bene. Bella, bella! Ce l'abbiamo fatta, sta dura, però la seconda l'abbiamo strappata. Avanti tutta! È stata dura, ma ne abbiamo portata a casa una. È stata una giornata di fuego, non coda! Siamo qui, tutti spari, però siamo pronti per il mercoledì, Forza Verona. Meno male che mi ha vinto la seconda partita perché è stato veramente un giorno molto difficile. Comunque ci vediamo mercoledì a Gava. Questa mattina abbiamo avuto un po' di difficoltà, abbiamo lasciato una partita più a Brescia. Il pomeriggio siamo rifatti, sempre difficile, però Verona Baseball ha vinto la seconda. Forza Verona e avanti alla prossima in Gavagnin. Allora ci vediamo mercoledì a Gavagnin con i fuochi d'artificio e per riscattarci col Brescia. Spaccheremo!